oh io dici prima che faccio uno e poi che faccio l'altro un po' hai visto quando il lungo? si, si, si guarda le canchone quinto quel lungo che no canchone mutuo quel lungo cala la musica, cala del retro cala la musica cala la musica allora va la macchus che è qui non ti va fiacco però non va come a scelta non va come a scelta ma perchè sta regolata guarda la macchina guarda la macchina guarda la macchina gli senti guarda la macchina immagino star Grazie a tutti oh tira e non tira tira ma che cazzo dice? che non stai buono fratello ma che cazzo alza Ito anzi se l'ha fatto eh che morì andate molto ahahah 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 l'ho 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 l'ho